Buongiorno a tutti, oggi preparo la colomba classica in un unico impasto. Mi occorre 450 g di farina manitoba, 100 g di burro, 120 g di zucchero, 3 tuorli d'uovo, un uovo intero, 170 g di acqua, 50 g di arance candite, 50 g di uva passa, bucce di limone e di arancia grattugiate, 12 g di lievito di birra, estratto di vaniglia, 10 g di miele, 10 g di rum, un pizzico di sale, uno stampo di un chilo, per la glassa, 125 g di zucchero a velo, 36 g di albume, 60 g di mandorle tritate, poi anche granella di zucchero e mandorle quanto basta. Inizio la preparazione in una planetaria, verso la farina, verso lo zucchero, verso le uova, ora metto il miele nell'acqua e il lievito e sciolgo il lievito nell'acqua con il miele. Ora verso nella planetaria, inizio ad impastare. Metto un pizzico di sale, metto il rum, la vaniglia e le scorze. Continuo ad impastare e poi poco alla volta metto il burro. metto il rum, la vaniglia e le scorze. A questo punto metto le arance candite, ora metto l'uvetta precedentemente lavata messa in ammollo con succo d'arancia e faccio assorbire il tutto. Incordato bene lo tolgo dalla planetaria ed ecco l'impasto pronto, guardate. Metto in una boule, copro con carta trasparente e lo metto nel forno con la lucina accesa fino al raddoppio del volume. Raddoppiato di volume lo tolgo dalla boule e lo verso sulla spianatoia. Lo allargo un poco. Lo taglio a metà. Lo arrotolo su se stesso. Inizio a metterlo nella forma. E ora metto così. Sistemo bene. E a questo punto lo lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Una volta raddoppiato di volume, preparo la glassa. In una ciotola metto lo zucchero e l'albume. Sbatto un po' con l'albume e lo zucchero. Ora aggiungo le mandorle tritate precedentemente. Pronta la glassa, la spalmo sopra. Finito di mettere la glassa, metto le mandorle. Ed ora lo zucchero a granella. La vado ad infornare in forno caldo e statico a 165 per 45 minuti. Bella pronta da gustare. Ora la taglio. Ed eccola pronta. Guardate che spettacolo. Si è cotta bene. Morbida e pronta da gustare. Grazie della visione. Alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete il 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 canale, condivid